Aaaaaaah! Fun! Dabbers! Gioca la tua ultima patetica carta, così la finiamo qui, Yugi! Il deck di mio nonno non ha carte patetiche, Kaiba! Ma contiene invece... ...questa! Oh, aspetta, dammi ancora un paio di turni. Cosa? Perché? Perché voglio provare questa cosa? Vedi soltanto di concludere il tuo turno, così potrò vincere! No! Perché no? Perché non voglio perdere! Ciao ragazzi, se il video vi è piaciuto come al solito mettete un bel pollicciazzo su. Lo so, era breve, ma ci rifaremo nei prossimi video. A domenica!